ricordiamo a chi non conosce il canale fetonte il distruttore che nella pagina iniziale del canale può trovare un video introduttivo che introduce i vari argomenti che trattiamo in questo canale ma è l'argomento principale l'escatologia di cui questo fetonte il distruttore questo misterioso corpo celeste di cui parla la bibbia di colbin non solo sembrerebbe essere il protagonista quindi entriamo nel merito del video di oggi quindi siamo stati stimolati da una discussione molto animata quasi una rissa in rete tra delle persone che hanno messo insieme un'attività di ai confini della psichiatria cioè hanno praticano l'ipnosi regressiva per risolvere dei problemi psicologici che delle persone avrebbero in conseguenza di rapimenti alieni quindi a quanto c'è parso di capire queste persone sostengono che durante queste adduzioni questi rapimenti questi alieni avrebbero installato qualcosa che poi permette di loro di di avere praticare un'influenza mentale e diciamo i critici hanno accusato queste persone e in generale chi si occupa di alieni e influenza mentale di essere dei giarlatani ecco noi nel nostro canale ci occupiamo in modo primario di questo argomento cioè sosteniamo che gli alieni dispongono di un sistema per influenzare la mente degli uomini sul pianeta terra quindi vorremmo difenderci da questa accusa presentando tutte le informazioni che noi illustriamo nel nostro canale noi presentiamo nel nostro canale a sostegno della nostra ipotesi e quindi siccome formuliamo delle ipotesi che sono sostenute da dei dati non riteniamo di essere dei giarlatani ma prima di tutto facciamo una meditazione di tipo generale questo tipo di argomento può essere classificato nel come nell'ambito della demonologia con la differenza che la demonologia la possessione sia sviluppata all'interno della chiesa quindi è considerata qualcosa di serio e quindi che invece questi fenomeni siano ad opera di extraterrestri invece è considerato una giarlataneria quindi ora cercheremo di dimostrare che questo tipo di conclusioni hanno la stessa serietà della demonologia noi per esempio in questo ultimo video abbiamo presentato dei dati che sembrerebbero far pensare che gli antichi romani si sentivano investiti di una missione divina nell'essere un impero che conquista tutto il mondo ma leggendo le profezie bibliche si vede che queste profezie hanno profetizzato l'avvento dell'impero romano e quindi noi siccome riteniamo che tutte le cose dell'antico testamento orbitano intorno a questi extraterrestri del passato questi antichi astronauti colonizzatori riteniamo che in realtà queste profezie non sono altro che i loro piani e quindi quando hanno hanno le hanno messi in atto influenzavano gli esiti delle battaglie e quindi intervenivano sulle vicende belliche quindi questo signore degli eserciti era qualcuno che era in grado di intervenire sulle vicende belliche come e noi diciamo primariamente con questa influenza mentale quindi non mancano i racconti del passato in cui un dio si schierava con uno schieramento l'altro schieramento accecando mentalmente i soldati di uno delle due schieramenti quindi questi racconti di soldati che vengono annebbiati da una misteriosa forza che gli impedisce di essere efficienti in battaglia non mancano anche nella bibbia ma il caso centrale è la conquista dello stato di israele a opera degli assiri che non è stata non si è potuta completare con la conquista dello stato di giuda che infatti è rimasto indipendente perché Yahweh che il signore degli eserciti gli ha detto voi potete arrivare fin qua quindi potete conquistare lo stato di israele ma che in quel tempo si era le dieci tribù si erano separate da giuda invece per quanto riguarda giuda non ci potete arrivare quindi pur essendo una superpotenza mondiale voi potete solo realizzare quello che decido io e questo è il motivo per cui viene chiamato il signore degli eserciti per chi vuole leggere la bibbia estraendone quello che c'è scritto e non sostituendolo con altro dicendo che è un'interpretazione allegorica quindi a questo punto uno può prendere c'è scritto una cosa ne dice un'altra può dire qualsiasi cosa questo tipo di interpretazione alla fine finisce per annullare la bibbia perché tanto uno può prendere una cosa e dirne un'altra è un'interpretazione allegorica e mitologica valletta in questo senso e quant'altro quindi diciamo qual è la teoria che noi sestoniamo quindi abbiamo varie playlist nel nostro canale per sostenere le varie tesi per esempio c'è questa playlist in cui sosteniamo che il pianeta Terra in realtà è una colonia mineraria di questi extraterrestri quindi adduciamo una serie di prove di cose tecnologiche di origine extraterrestre miniere e quant'altro osservazioni su google earth quindi per chi si vuole divertire può andare a spulciare questa playlist e quindi uno dei modi in cui esercitano questo potere sul pianeta Terra e questo sistema che hanno sviluppato per controllare la mente delle persone quindi questo sistema sarebbe fatto di due parti una parte trasmissiva che sono delle tecnologie e una parte ricettiva che risiede dentro l'uomo quindi per poter mettere a punto questa tecnologia hanno dovuto sostituire l'uomo che avevano creato in origine con aggiornarlo con una nuova versione quindi noi leggiamo la Bibbia in questa chiave molti pongono l'attenzione al fatto che è stato creato l'uomo è stato creato dagli Elohim noi diciamo vabbè ok una volta che abbiamo detto questo ma la Bibbia di cosa parla parla di come l'Adamita questo uomo primitivo sia stato aggiornato più volte quindi circa 2000 avanti Cristo è stata accorciata il tempo di vita quindi è stata portata a 120 anni questo racconta la Bibbia quindi la razza Adamita è stata aggiornata con la razza chiamiamo così Noeita quindi la razza di Noe che come la stessa Bibbia documenta vive 120 anni e poi a un certo punto secondo noi ai tempi di Giacobbe sarebbe stato creato un altro aggiornamento questo gene di Dio che fa in modo che l'uomo sia controllabile e poi proiettiamo questa lettura anche in chiave apocalittica quindi noi leggiamo l'Apocalisse come una fase in cui verrà lasciato in vita solo chi ha questo gene di Dio questo famoso leggiamo questo famoso separare il grano dalla paglia in una lettura alternativa fermo restando che noi siamo credenti diciamo che comunque esiste la lettura spirituale quindi un'altra cosa che noi deduciamo dalla lettura della Bibbia è che alimentarsi di carne agevola questa operazione di controllo mentale degli extraterrestri quindi sosteniamo che un Gesù che predicava divulgava il vegetarianesimo e il veganesimo così come racconta il Vangelo e il Seno della Pace è realistico perché questa sua frase solo se io vi libero sarete sempre liberi può prendere vari aspetti e vari significati e uno di questi insegnava delle tecniche per sottrarsi dal controllo delle influenze mentali extraterrestri quindi andiamo a vedere le scritture quindi perché noi non siamo ciarlatani perché ci appoggiamo a dei dati concreti quindi noi diciamo la Bibbia siamo d'accordo con Mauro Bellini parla di storia quindi racconta eventi che sono realmente successi noi crediamo che sono realmente ma vengono interpretati in chiave paleoastronautica quindi leggiamo il passo centrale e noi adduciamo a sostegno del fatto che questi alieni hanno un sistema di influenze mentali quindi noi ci troviamo nel deserto quindi questo misterioso Yahweh che non si capisce chi è potrebbe essere qualcuno un egizio che non ho voluto dare il nome forse Molok che mentre faceva questa operazione si faceva dare i figli in sacrificio insomma non è chiaro ha radunato questo gruppo che ha tirato fuori dall'Egitto e a un certo punto ecco che tra le varie operazioni che si svolgono nel deserto raccontiamo una particolare che estraiamo da numeri 11-16 il Signore disse a Mosè radunami 70 fra gli anziani di Israele conosciuti da te come anziani del popolo e come persone autorevoli conducili alla tenda del convegno e vi si presentino con te io scenderò e li parlerò con te prenderò lo spirito che è su di te e lo metterò su di loro perché portino con te il carico del popolo e tu che non lo porti più da solo quindi cerchiamo di interpretare questo passo quindi vediamo che questo passo si può leggere con due chiavi di lettura una chiave di lettura spirituale classica e una chiave di lettura aliena che è quella che proponiamo noi quindi la chiave classica che cosa dice questo è Dio che per la prima una delle tante volte che spande lo spirito santo su quelli che lui incarica di spargere le sue direttive come non mi ricordo quale profeta è che dice come che un tizzone mi entrò in bocca e io cominciai a pronunciare delle parole che non venivano da dentro di me questa era l'esperienza che ci racconta uno dei tanti profeti quindi Yahweh o chi per lui o chi è realmente dice ora questa operazione io la facevo solo con Mosè ma siccome non è che lui può passare dalla mattina alla sera a dare ordini ho deciso che questa missione di coordinare il popolo eletto la condividerà con altri 70 anziani quindi gli ha detto portatemi questi 70 e faremo delle prove di questa profezia che significa dire delle parole che non vengono da noi ma dall'esterno di noi dirai al popolo santificatevi per domani e mangerete della carne ecco qui adesso vediamo un discorso che si sviluppa quindi qui in questo episodio appare centrale che loro dovessero mangiare della carne vediamo perché dice poiché avete pianto qui ovviamente la Bibbia dà una giustificazione dice ora vi do della carne perché vi siete lamentati che mangiavate solo manna invece in Egitto ora vi faccio vedere io quindi non ne mangerete non per un giorno non per due giorni non per cinque giorni non per dieci giorni non per venti giorni ma per un mese intero quindi ha dato disposizioni che mangiassero carne che mangiassero carne per un mese finché vi esca dalle narici e ne provate nausea ora noi siamo sospettosi ma perché che c'entra il fatto di diventare dei profeti col mangiare della carne potrebbero essere due questioni diverse invece no gli dice prima di fare queste prove voi vi rimpinzerete di carne Mosè obbedisce questo popolo in mezzo al quale mi trovo conta 600.000 adulti e tu hai detto io darò loro della carne e ne mangeranno per un mese intero quindi scanneranno poi eccetera eccetera allora il Signore risposa a Mosè la mano del Signore è forse accocciata ora vedrai che la parola che ti ho detto se si adempirà o no ora ti faccio vedere che io faccio quello che dico Mosè dunque uscì e riferì al popolo le parole del Signore radunò 70 fra gli anziani del popolo e li dispose intorno alla tenda quindi sembrerebbe che questo controllo mentale provenisse dalla tenda quindi noi diciamo era un qualcosa di tecnologico dentro l'arca quindi l'arca tra le tante cose aveva questo potere ma questo ha favoreggiato anche il famoso film di Indiana Jones che evidentemente si sono letti attentamente questo passo e hanno fatto finire il film con tutte le persone che impazzivano ricevendo una forte scarica mentale quindi vediamo che non solo sono cose che tanti le hanno letti in modo particolare allora il Signore è sceso dalla nuvola perché Yahweh arrivava sempre dentro una nuvola e parlò a Mosè prese dello spirito che era su di lui e lo mise sui 70 anziani e appena lo spirito si fu posato su di loro profetizzarono quindi che cosa vuol dire profetizzarono per farvi capire qualcosa di molto simile a quello che avviene durante le funzioni religiose dei pentecostali quando tutta l'assemblea comincia a lodare Dio Signore Alleluia Alleluia Signore quindi se voi andate in cerca di questo tipo di funzioni su YouTube ne trovate a non finire e vi rendete conto cosa vuol dire profetizzare parlare con un'energia che è insolita per la persona con un tono diverso dire delle cose che si capisce che non vengono dalle persone qui c'è l'ultimo passaggio curioso intanto due uomini l'uno chiamato Eliade l'altro Medade erano rimasti nell'accampamento e lo spirito si posò su di loro erano fra i settanta ma non erano usciti per andare alla tenda e profetizzarono nel campo quindi questi qua si trovavano a distanza pur trovandosi a distanza quelle parole che secondo noi venivano proiettate da dentro l'arca da questo dispositivo che noi diciamo ancora a stavolta l'arca era una scatola in realtà tutte queste cose stavano dentro le tavole della legge che per questo erano di pietra quindi il dispositivo tecnologico erano le tavole della legge che con una scusa di dover dare questi comandamenti dietro un aggeggio che messo dentro questa scatola faceva tutte queste belle cose e quindi noi approfitto per dire che noi siamo credenti non crediamo che esiste lo Spirito Santo vediamo che uno degli aspetti di questo Spirito Santo è un'energia che veniva riconosciuta e utilizzata dagli gnostici e crediamo che Gesù divulgasse anche un messaggio gnostico con la conoscenza che viene da Dio quindi questo è uno degli aspetti che noi testimoniamo che crediamo nell'esistenza dello Spirito Santo e uno di questi aspetti è che esiste noi sosteniamo che esiste un help in linea quindi uno si fa delle domande e ottiene delle risposte da una conoscenza che viene dall'alto quindi dall'uno quindi noi non poniamo in modo centrale Dio o non Dio con le gambe e le braccia però almeno questo contatiamo abbiamo delle posizioni sfumature diverse quindi noi leggendo questi siamo charlatani no già nel 200 dopo Cristo dei gruppi di persone leggevano la Bibbia e ritenevano che gli insegnamenti di Gesù non sono incompatibili sono incompatibili con l'azione del Dio dell'Antico Testamento quindi questi episodi come devono essere interpretati quindi se non è Dio che manda lo Spirito Santo nell'Antico Testamento è legittimo dire che sono altre cose quindi chi legge in chiave paleastronautica la Bibbia conclude che gli extraterrestri hanno un sistema di influenza mentale quindi lo avevano a quel tempo ora è certo da dire che ce l'avevano 2.000 mila anni fa e ce l'hanno adesso è un passo ulteriore ma è anche vero che ognuno può fare una indagine dentro di sé per rendersi conto per esempio con lo yoga se i nostri pensieri sono i nostri oppure sono inquinati da qualcosa di esterno quindi appunto ci hanno creato gli extraterrestri noi leggiamo la Bibbia con questa nuova chiave ci hanno creati e ci hanno aggiornati quindi nel 2000 avanti Cristo per accorciare la nostra vita circa nel 1200 avanti Cristo per essere più controllabili mentalmente ma perché controllabili mentalmente per fare in modo che noi operassimo al loro servizio in loro assenza quindi che noi estraessimo per conto loro loro nel momento che loro non ci sono quindi a loro ritorno questo battesimo della Spirito quindi in realtà questo battesimo della Spirito è un fenomeno molto complesso alcuni aspetti antico sarebbero un loro piano per riconoscere chi ha questo gene di Dio e chi non ha questo gene di Dio infatti la Chiesa cattolica ha rigettato questo battesimo dello Spirito dice credo in un solo battesimo quindi quando ha analizzato la complessità di questo fenomeno ha concluso che c'era qualcosa che poco aveva a che fare non ha entrato nel dettaglio ma ha detto che non crede a questo quindi la Cresima sarebbe un simulacro di quello che facevano questo battesimo dello Spirito è diventato una semplice conferma di un qualcosa che si è fatto in teneretà quando non si poteva decidere quindi è stato completamente snaturato il significato della Cresima che in origine era la discesa dello Spirito Santo sul credente quindi la conferma che Dio accetta la proposta del fedele che fa col battesimo quindi il battesimo è una proposta il battesimo della Spirito è un'accettazione che si manifesta con una serie di fenomeni psicologici quindi la Chiesa ha detto no tutto questo ma alla fine davanti ai fenomeni che si sono manifestati questi risvegli dello Spirito ha aperto le porte e diciamo sono venuti fuori una serie di movimenti che la Chiesa accetta i catecominali i carismatici che alla fine cercano di aprire la porta al fenomeno pentecostale quindi vi ricordiamo che se vi ricordiamo vi chiediamo se ritenete che questi contenuti siano di interesse pubblico di mettere i mi piace che aiutano alla visibilità del video a condividere e se non siete iscritti potete iscrivervi al canale e attivare le notifiche vi ricordiamo che in un sito fetonte.it sono custoditi tutti i testi che parlano questo asteroide distruttore che è il tema centrale del nostro canale ciao a tutti